SIGLA Attenzione a tutto il personale, la base Starkiller è sotto attacco. Truppe della Resistenza attaccano l'area di manutenzione. Eliminate tutti gli intrusi. SIGLA 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 I Treditori della Resistenza hanno superato ogni limite. Saranno puniti. Grazie a tutti. 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 Avremo presto la vittoria in pugno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rinforzate le difese. Spezzate l'assegno. Ora, diamo il colpo di grazie a tutti. Grazie a tutti. Dipendete tutti gli accessi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.